Andiamoci solo dalla residenza! Cartelli e slogan per chiedere la residenza. Un nutrito gruppo di circa 40 richiedenti asilo, ospitati presso l'ex albergo La Montanina di Esinolario, di proprietà del COE, ha percorso in corteo le vie del piccolo paese, puntando dritto al comune. Un'iniziativa pacifica che ha colto però di sorpresa l'intera comunità, ma soprattutto spaventato i tre dipendenti e i due cittadini che in quel momento si trovavano in municipio e che ignari di quanto stesse accadendo si sono chiusi negli uffici fino all'arrivo dei carabinieri che hanno sciolto la manifestazione. Il problema della residenza si trascina da tempo, spiega il responsabile dell'accoglienza presso il centro del COE. La decisione di manifestare l'hanno presa gli ospiti. Io sono arrivato pochi minuti prima. Della questione abbiamo però parlato ancora qualche giorno fa. Gli è stato spiegato che, anche se è un loro diritto, dipende dal sindaco, che però non ne vuole sapere. Ora che accadrà? Al momento non mi sono ancora confrontato con loro, ma sicuramente avremo un incontro e probabilmente ce ne sarà un altro la prossima settimana con l'amministrazione. Certo, sono esasperati. Precisa il responsabile del servizio di accoglienza. Non hanno documenti e soprattutto non hanno alcuna certezza circa il loro futuro. Sull'episodio non si è fatta attendere la reazione della Lega Nord per voce del suo segretario provinciale, Flavio Nogara. Diamogli subito il foglio di via, oltre che la residenza, commenta il leghista. Chi viene accolto e mantenuto nel nostro paese dovrebbe soltanto ringraziare. In provincia di Lecco, conclude Nogara, spendiamo 20 milioni di euro all'anno per persone che non hanno diritto di restare in Italia. Grazie.